Lo sai che quest'armadio ci scannerizza e vede delle cose di noi che noi neanche sappiamo Preferisci mano destra o mano sinistra? Preferisco mano destra Mano destra me la presti, me la dai qua Apri, 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 apri Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti